Allora io le propongo subito un accordo per prendere almeno un ragazzo in ogni azienda, in apprendistato, quindi sono già 5.000 ragazzi in apprendistato, avete sentito tutti, vero? Il De Ponte ha detto di sì. Allora, capite, è così che dobbiamo fare. Noi dobbiamo garantire la formazione, i percorsi di formazione, però le imprese ci devono garantire anche le esperienze di lavoro al momento giusto. Ieri ero al Senato per la presentazione dei risultati preliminari dell'indagine fondazione di imprese per i giovani come far crescere il vivaio organizzato dalla fondazione Bracco. A maggio poi nel Padiglione Italia, Palazzo Italia, verrà presentato l'intero rapporto. Bene, le due criticità principali che tutte le fondazioni d'Italia, di impresa e di famiglia che hanno investito quindi per favorire l'occupazione giovanile sono state queste. Il mismatch, l'avete detto, tra le competenze acquisite dai giovani e quelle domandate dalle imprese. Abbiamo visto come Galdus ha cercato di risolvere questo problema, quindi costruendo con le imprese il percorso richiesto dalle stesse, quindi garantendosi così anche l'inserimento dei giovani formati secondo queste curvature. Ma l'altro problema è difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, per cui i dati parlavano di inserimento lavorativo dei giovani dai 15 ai 34 anni. Signori, ma se noi continuiamo a considerare giovani, un giovane dai 34 anni per il primo lavoro, siamo già falliti, è già fallito il nostro paese. Perché certo che si è giovane a 34 anni, ma a 34 anni si deve governare il mondo, si deve aver fatto un'esperienza, si deve aver già qualcosa da dire. Ecco perché è corretto a 22 anni fare l'esperienza di imprenditore e di giovani di autoimprenditorialità, ecco perché è corretto a 17-18 anni avere giovani in apprendistato. Non è corretto fare una misura di garanzia giovani che va da 15 a 29 anni per l'occupabilità, cioè per offrire la prima esperienza di lavoro. Nel mondo, faccio tre esempi per tutti, certo eccezionali, ci mancherebbe, ma Bill Gates, Steve Jobs e Zuckerberg erano studenti universitari quando hanno inventato quello che ha cambiato le nostre vite. Il PC e internet, l'iPhone e Facebook. Avevano 19-20 anni, quindi non è che noi possiamo aspettare 35 anni perché la nostra risorsa umana, dopo che è stata assistita, tra virgolette, da percorsi universitari, da percorsi formativi che non finiscono mai, perché finisce un percorso, poi ne offriamo un altro e poi ne offriamo un altro ancora. e non vanno mai a lavorare. Non può funzionare più così.